Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Italia chiama Italia. Questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di mercoledì 23 marzo 2022. Ultimo appuntamento del progetto Dalle Dolomiti al mondo, l'iniziativa organizzata dall'Associazione Trentini nel mondo in collaborazione con Associazione Bellunesi nel mondo, Fondazione De Gasperi e Associazione Alchemica. Venerdì 25 marzo la rassegna si concluderà con il webinar Comunità virtuale tra narrazione e criticità. Appuntamento al via alle ore 10. L'evento metterà a confronto la migrazione storica e quella recente tramite l'analisi dei modelli aggregativi degli italiani all'estero. Si parlerà di sviluppo di comunità virtuali e di nuove metodologie di aggregazione tramite l'esperienza di bellunoradici.net, il social network dell'ABM e la visita virtuale al Minbelluno, il museo interattivo delle migrazioni. In programma gli interventi di Marco Crepaz di bellunoradici.net, Ilenia Olivo e Lorenza Fracalossi di Mondo Trentino Village, Heidi Garulli di Allumni Unitrento, Luigi Papais dell'Ente Friuli nel Mondo. Il webinar potrà essere seguito in diretta sul canale YouTube della Trentini nel Mondo. Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.trentininelmondo.it Sesta edizione del premio letterario internazionale Gerard Rolfs, Franco Mosino, Anastasios, Caranastasis. A promuoverò il circolo culturale Apo di Affazzi in collaborazione con l'istituto Fernando Santi. Aggiunta per il 2022 anche la nuova sezione Cultura senza confine in lavoro italiano in emigrazione. Volta a premiare un'opera che, dalle vicende emigratorie, recente e meno recente, colga il versante dell'esperienza del lavoro come questione centrale attraverso la rappresentazione in diverse forme del lavoro e della condizione lavorativa nei contesti dei paesi di accoglienza e all'interno delle comunità italiane. Ammesse sia opere che raccontano il vissuto personale e la vita quotidiana all'interno delle vicende emigratorie di ieri e di oggi, sia studi e ricerche aventi a oggetto il tema del lavoro degli italiani, con particolari interessi sulla recente emigrazione nelle sue diverse componenti occupazionale, reddituale e di protezione sociale. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del circolo culturale Apo di Affazzi, Chiocciola Apo di Affazzi. Si informano i connazionali residenti nella circoscrizione Consolare di Cartagena, Dipartimenti di Bolivar, Cordoba, Sant'Andresse, Providencia e Sucre, che il 24 marzo 2022 è prevista la giornata per la raccolta delle impronte digitali ai fini del rilascio del passaporto. Lo segnala l'Ambasciata d'Italia-Bogotà in Colombia, precisando che l'appuntamento si prenota attraverso il portale Prenotami. Maggiori informazioni su www.ambbogotà.esteri.it. Ultima notizia. Il Consolato d'Italia-Detroit assume un impiegato a contratto da adibira ai servizi di collaboratore amministrativo. I requisiti necessari per partecipare alla procedura di selezione sono aver compiuto il diciottesimo anno di età, essere di sana Costituzione, essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado equivalente, avere la residenza negli Stati Uniti da almeno due anni. Le candidature dovranno essere presentate entro le 23.59 ora di Detroit del 5 aprile 2022. Dettagli e avviso di assunzione completo sono disponibili sul sito www.consdetroit.esteri.it. E' davvero tutto per questa edizione di Italia Chiama Italia. A voi tutti un buon proseguimento di giornate in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'associazione belonesi nel mondo.